Tutto 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 Mamma mia ragazze, l'ho cessato così E poi se ti colpo Ok Bene Qualcuno che mi da Un medico non c'è Mi serve un medico Oh cazzo Spero non mi abbia visto C'è bravo Muori 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 Godo Godo Siamo già 8 kill Siamo già 8 kill Salta Dove sta questo Fuori Fuori C'è ancora qualcun altro Siamo a 12 kill Vedimi Dove è questo Ok Ok Muori Poca vita Mi ha morto un prego io Ni la No 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 15 kill Troppo troppo casino Dove andiamo Boschetto Si Dicono tutti così Eh no Io ce l'ho due pompato Mi ha trattato male Mi ha trattato male Eh no Tony Guarda quanti C'ho 10.000 bauli qua Lancia granate Lancia granate Lancia granate Scudo Qua ci sono Chiamo Tony Venimi a prendere Dio che è che mi sta invadendo l'abitazione Ma non lo so guarda Oh Per 300 di cose Di mattoni c'è il lancia granate Tony Gamer Ha aggiunto il giocatore uno dei due Il problema è che ora però mi devo levare qualcosa E non so che cosa tra l'altro Mi levo Andate a prendere il medikit sul ping Aspetta Tony fa una cosa Tony prenditi il lancia granate tu A prendere questi eh Merikit sul ping Laggiù ok Sono qua sotto Regà Oh dove sta? Ma che c***o Ti sta prendendo sempre Sei sceso tu Regà c'è uno sopra Scendi matta scendi Scendi Tony Dov'è che sta? E' ma te dove vuoi? Tutta la vita Cazzo il cecchino Potete tenere qualcosa i mini scudi Io non li vedo proprio no Mi levo il dmr allora per il dmr mi serve Oh ce ne sono pure qua eh Ho levato 69 a questo Ma c'è una cassa qui Oh Ma dove stanno queste che erano qui Axe? Pariti? Dietro c'è a destra non vedi? Eh non so dove sono andate Ah li stanno pushando Ah si? Quindi aspetta che arriviamo pure noi Pazzi Li stanno pushando sulla montagna Regà Ah Matti Andiamo andiamo a fare compagnia eh Pazzo sei chiuso sulla montagna Bah bravo bravo non puoi c***o Così Oddio non sei chiuso sulla montagna regà A questo punto stiamo giù no? Loro devono scendere La safe è qui comunque Quindi Ma avete colpi per i missili? Matti c'è colpi per i missili Ma c'è un altro scudo raga Matti c'è colpi per i missili Altri scudi scudini Si Matti c'è colpi per i missili Vabbè la scuola me la prendo io Due 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 Ok Però così sono strascoperdi c***o Dai sopra si Non c'è più materiali Matti ha finito i materiali Matti Porcozino 800 di legno aspetta arriva da te give me a bit of a legna of wood thank you stanno facendo una... buttate giù quella roba per favore buttagli da giù che abbiamo vinto la roba quanto sono stupidi butta 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 giù no no ultimo razzo uno a terra in realtà due dove sta? non la vedo è morto è morto che stupido si è buttato oddio mi ha dato la kill a me che culo perchè mi ha dato la kill a me? non lo so ma che cazzo si è buttato adesso quello mi ha dato la kill a me questa in realtà è stata molto molto easy stavittone si ma è una bruttica quante kill avete fatto voi io ho tre madonna io ho una quest'ultima e non ero ciao 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 ciao